buongiorno a tutti anzi buonasera vista l'ora sono le 11 più o meno di sera ho aspettato un attimo a fare questo video anche se ho visto nel pomeriggio di oggi la gara comunque felpettina da brr che freddo che fa perché dobbiamo parlare di scienze anche se dire brr che freddo che fa adesso non è veramente il caso al massimo si può dire brr che palle siamo in casa poi oggi vedevo video di gente incazzatissima perché c'era gente in giro c'era un signore non so di che paese forse ma penso fosse pugliese vedendo l'accento che diceva sono 15 giorni che sono in casa esco 6.000 persone su 10.000 e non è solo un piccolo quartiere eccetera eccetera lasciamo perdere comunque super g maschile di interstoder e andiamo a vedere come è andata so che a molti ripeto da fastidio che faccia video su sullo sport però ancora dopo questa altre tre gare poi anche lo sci lo concludiamo farò due video separati per chi ha vinto nel maschile chi ha vinto nel femminile le classifiche generale eccetera eccetera e poi dopo mi sa che di sport non parleremo per ve l'ho detto almeno un altro mese mese e mezzo come minimo comunque stavo dicendo super g di interstoder il primo a scendere è crich maier crich maier e sarà sicuramente un tempo di riferimento importante perché comunque crich maier è uno dei più bravi nelle discipline veloci il suo tempo è 133 e 08 adesso attendiamo la discesa degli altri per capire che gara ha fatto con il pettorale 7 scende childe prima intermedia in luce verde perché aveva 46 centesimi di vantaggio ma e me ha toccato con lo scarpino sullo scino un punto che se un attimino come si suol dire avete presente come va come nello sci anche come nella moto anche nello sci gli sciatori si spostano leggermente adesso a sinistra in base a dove stava preparando la curva ha forse spostato un po' troppo tocca con lo scarpone è andato giù ha fatto per rialzarsi si è capottato praticamente e quindi ciao ciao gara e soprattutto ciao ciao mondiale perché era lì vicino a agli altri a giocarsi il mondiale la coppa generale il mondiale la coppa generale ma ahimè questa caduta è deleteria con il pettorale 11 scende il nostro mattia casse speriamo in una sua bella gara purtroppo è solo ottavo con beno 1 65 di ritardo anche se con cronisti sono convinti che resterà sicuramente nei primi 15 con il pettorale 13 scende dressen ma dopo il primo intermedio in luce rossa di soli 27 centesimi anche lui scivola via e butta via la gara in maniera abbastanza così così diciamo perché era una posizione tranquilla un po' come come childe stava approntandola a inserirsi nella porta era tra una porta e l'altra quindi era a distanza e si è sbilanciato un attimo e proprio è scivolato via proseguiamo con il pettorale 14 perché scende il nostro Emanuele Buzzi vediamo cosa combina il nostro stratete se riuscirà a fare meglio del suo compagno è lì è lì è lì è lì è la che l'aspettava perché è nono con un ritardo di un secondo e 77 centesimi quindi ha soli 12 centesimi dal suo compagno di squadra che però nella sfida tra compagni lo batte con il pettorale 18 scende Sander ma quasi a termine gara dopo il terzo intermedio era anche a 1 e 69 quindi poteva anche arrivare tra i primi 10 volendo perde uno sci e deve abbandonare la gara praticamente stava stava scendendo cosa ha fatto le porte sapete benissimo che nel nel gigante nel super gigante nella discesa libera sono due porte con lo straccettino il cosino di quindi sono un po non sono gli paletti stretti del dello slano speciale cosa ha fatto ha preso dentro uno dei due paletti esterni paletto esterno e quindi lo sci tac gli è partito via e ha dovuto salutare la gara e meno male non si è fatto male perché si scende intorno ai 100 chilometri orari e perdere uno sci a 100 all'ora non è propriamente il massimo comunque è riuscito a rimanere in piedi poi lasciarsi cadere ed evitare di farsi male con il pettorale 20 scende Walder ma anche lui dopo il terzo intermedio scivola e saluta la gara anche se comunque aveva un ritardino mica da ridere di 2 secondi e 65 centesimi la classifica dopo i primi 20 atleti vede cricmaier che zitto zitto cacchio cacchio sente profumino di vittoria al secondo posto c'è mauro caviezen al terzo c'è maier al quarto c'è pinturo al quinto foitz al sesto janslund al settimo allegre all'ottavo per ora tiene il nostro casse al nono tiene il buzzi e al decimo c'è mass france dopo la discesa di 30 atleti la classifica più o meno rimane invariata c'è solo da segnalare l'ingresso di gino caviezen al decimo posto tutti gli altri sono uguali identici alla classifica precedente e al termine della gara la classifica assolutamente non cambia quindi praticamente abbiamo cricmaier al primo posto cambia mauro caviezen al secondo maier al terzo pinturo al quarto foitz al quinto janslund al sesto allegre o allegre o allegre al settimo casse all'ottavo buzzi al nono quindi due italiani nei dieci ahimè sono ottavio nono però va sempre bene e al decimo se c'è sempre gino caviezen da segnalare al ventunesimo posto il nostro marsaglia sceso con un pettorale superiore se non ero il 34 quindi una buona gara lo stesso certo non eccezionale veramente però zitto zitto cacchio cacchio chissà che fosse la volta buona che l'anno prossimo cioè ottobre se rinizieranno a ottobre magari entra nelle nei 30 anzi che dover sempre partire dopo la frentesima posizione detto questo io vi saluto e vi ringrazio spero di non aver offeso nessuno perché ho fatto ancora un po di sci e ci vediamo al prossimo video che probabilmente ne farò un altro nella nottata un altro vidietto magari di cool news visto che vi sto stressando un po con questi video estemporanei su questioni generiche faremo un altro cool news magari ciao